Dal vostro inviato Travel for Business al Sales Innovation Expo, ecco una nuova puntata di quello che sta accadendo qua. Siamo all'interno dell'auditorium, stiamo per assistere a una presentazione. Vorrei partire da qui per raccontare un po' com'è cambiato. Diamo uno sguardo prima agli stand. Come avete notato gli stand sono praticamente una piccola scatola, sono un bancone, un desk. Nella mia esperienza è cambiato molto il modo di presentare questi eventi collegati alla formazione, collegati alla vendita. Quello che oramai conta non sono più degli stand veramente esaltanti con grandi lustrini, grandi spazi, grandi dimostrazioni, ma sono proprio gli incontri. Quello che sta facendo la differenza è venire qui per ascoltare gli esperti che parlano, per ascoltare coloro che hanno qualcosa da suggerirci in merito alla nuova modalità di vendere, al modo di vendere. E quindi questo direi che ci fa capire come sia importante partecipare alle fiere in maniera differente, raccogliere informazioni e trasmettere informazioni a seconda di quale dei due lati dello stand è quello che stiamo popolando. Se siamo espositori, quindi dobbiamo contribuire dando dei contenuti nuovi, oppure se siamo dei visitatori. E veniamo qui per stabilire relazioni sì, ma soprattutto per imparare, per cogliere quello che c'è di particolarmente innovativo e farlo nostro.